Meno uno, via, via! Meno due? Meno uno? Full! Meno uno, disse. Secondo me muore. Che sto andando? Non andare lì! Siamo dei professionisti? Ci licenziano. Mi sa che sono rimasto solo. Mi sa che rimane e muore. Ciao. Blob! Non è stata un'ottima scelta questa. Che scelta? Di entrare qua dentro col blob dietro. Non ce l'ho solo io. C'era una cammella. Vabbè, lo portiamo sulla sedia. Non tutti, però. Gigante. Ok, lo porto fuori. Mob sulle scale. Draken. Draken. Raga, dopo che porto il blob qui, incominciate a portare roba, perché se no è un disastro. Perché non si sta muovendo? Oh. Ma è scemo. Provate a scendere, non lo so. Fede, riesce. Attento che c'è il Bracken, non andare troppo in posto di strada. Ok, sta seguendo noi. Il Bracken però è andato. Fede, la tua occasione è andato giusto. E' sponato l'esercito. Ce ne andiamo. Ok, di cosa ci dobbiamo preoccupare oggi? Sopravvivere. Cosa ci portiamo adesso? Io vado all'uomo. I whoopee cushion. No. Io torcia e walkie-talkie. Stronza. Mi ha stato augurato. Fatti sotto. Stronza. Vabbè, ormai lui fa più paura, perché c'è pasti. Vabbè, ormai lui fa più paura. No, Strucker? Ma sei serio? In questa mappa? Ci sta il soldatino. Andate, guarda? Ci sta il soldatino meccanico. Sponate qualcos'altro. Oh, Dio, che cazzo fa il soldatino? Andate, 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 prima che si arrabbi. Dove si va? Non lo so. Non possiamo, e dove dobbiamo andare? Oh, cazzo. Non so se posso vincere questo scontro, vi avviso. Non puoi. Dobbiamo, dobbiamo tirarlo qua. Appena fatto il calcio. è stato un piacere. Che paura. Eh, lo fa. C'è anche un gigante fuori. Wow. Questa è una delle run di tutti i tempi. Grazie a tutti Grazie a tutti In realtà ho visto loro clipparsi dentro la nave un paio di volte Cerco di starti lontano perché se ti becca un fuoco Sì infatti è questo soccorso davanti Siamo separati Spread position È morto Pasqui Era uno di quelli casuali comunque Era uno di quelli casuali Era uno di quelli casuali Era uno di quelli casuali Ha fatto ridili Ha ridili che era uno di quelli casuali perché è stata orribile Si fa vicino Ha detto che era uno di quelli casuali Prendola Secondo me c'è il repeat dell'altra volta e prima c'è il signore Eccolo qui Ho visto gli occhietti Io ho visto la sagoma Direttamente Sai che non mi fido molto Eccolo lì in fondo C'è anche la stanza del corli La stanza del covid Fate una cosa Ricordatemi Ricordatemi Sono simpatico Era proprio simpatico Ma Non ha incazzatelo Non fatelo incazzare Non fatelo incazzare Arriva Prendi la palla Prendi la palla No Pasqui Non No Mi stava arrivando addosso Figo Si è aperto Io ho appena scuso Vabbè Ma perché io? Perché? Non lo so Non possiamo più entrare Mi sa Aspetta Fammi controllare Oddio Ok tutto a posto Non è lì? No Che spasso Ale mi sa che è morto È morto Tu l'hai visto? Si Ok Mi dispiace Non lo ricorderemo Simpatico Ma in faccia Ma dove è finita la parte che dovrebbe prenderti Alla schiena Scusa Ma ce l'avevo in faccia Ma che cazzo Lo ricorderemo simpatico Mi ha staccato Cioè era davanti Perché almeno mi fa Dicire la maschina Perché a me mi devi Dicire Era bellissimo Oh Porto Ma c'è Il Bracken Raga c'è un regalo Lì Però c'è il Bracken Nella stessa stanza Se ne andiamo subito Via 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 Ripercorriamo i nostri passi Perché Non mi chiudere la porta Ricordatevi la La metera dietro Ricordatevi che lui è qui ora Bravissimo Bravissimo No 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 C'è città Alla le stai guardando troppo Andiamo piano Forse di lì? Non lo so Probabile Era lì a sinistra il Bracken Lo vedo, ce l'ho letteralmente nella mia camera Ah ce l'ho visto anch'io Si sta muovendo velocissimo Come non era lì? Che ansia Sta avvicinando molto piano Molto piano un paio di pa- Cazzo 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 È arrivato No 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 Ah Ehm Mmm 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 Ehm Ehm Almeno il mio pacco regalo Sì, giù dritto di qua Beh C'è un mob dritto davanti a noi Però può dare C'è un po' che abbiamo ucciso prima Sì, era proprio quello che abbiamo ucciso prima Ehm, sale portata via L'ho vista Tutto il corpo Ma ogni cosa che cittadini sanno c'è Lo so Ehm 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 Ehm